il video caro è un peccato guarda se è grosso guardalo mamma mia io ho cane guarda se è grosso dai dacci maledetto 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 perché non ci danno? ma guarda quanti ce n'è ho uno che ci dia no? non ci danno non ci danno mica cazzo non ci danno dai 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 guarda dove è mamma ca ma ce n'è dappertutto ma ce n'è dappertutto qua ma com'è sta cosa? tu ceppola ma non mangiano mica quei figli androchi qua? non mangiano? com'è che non mangiano? mia moglie qua fintana madonna mamma mia ma che cose ma che cose ma che cose ma che cose li ho cane ma non ci danno mcca oh guarda se è grosso un po' era l'unico scalino di merda guarda quante grosse dai dacci brutto stronzo maledetto non ce la facciamo così perché non ci danno non vogliono mica sapere più cane voglia guarda se ce n'è un massacro ce n'è un massacro non riesco a salire non riesco a salire non riesco a salire non riesco a salire io boi che nervoso che nervoso che nervoso che nervoso ma dai perché perché non ci danno io ho scancrato merda quel boi di gi poi mi si giro la fiducia ma ho tutto tutto adesso tutto tutto deve succedere tutto sempre qua tutto tutto tutte le volte che c'è un massacro di siluri deve succedere qua tutte le volte è immanchabile questa cosa qua io non lo so è immanchabile non 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 ma non è grossissimo ma è grossissimo è grossissimo cazzo iocca ma non mangia non mangia mica non ci vuole dare quel gran figlio d'androchi a maledezza Grazie a tutti.